Musica Si sta per concludere la settimana dunque andiamo a vedere insieme il meteo per la giornata di domenica 26 maggio con Avellino, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in assorbimento dalla sera con schiarite. I venti saranno assenti o deboli. A Dariano coperto con pioggia debole intermittente, lo stesso a Lioni. A Cervinara coperto con pioggia debole intermittente e a Baiano coperto con pioggia. A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con possibili piovaschi, i venti saranno deboli, mare poco mosso. A Salerno cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge in temporaneo assorbimento dal pomeriggio, peggioramento però dalla serata. I venti saranno deboli, mare poco mosso. A Benevento invece cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in assorbimento dalla sera, i venti saranno assenti o deboli. A Caserta giornata tendenzialmente soleggiata, i venti saranno assenti o deboli. Le temperature da Avellino, temperatura massima di 19 gradi, 14 gradi la minima. A Napoli 19 gradi la temperatura massima, 16 gradi la temperatura minima. A Salerno 22 gradi la temperatura massima, 16 gradi la temperatura minima. A Benevento 21 gradi la temperatura massima, 14 gradi la temperatura minima. A Caserta 21 gradi la temperatura massima, 14 gradi la temperatura minima. Ed è tutto anche per oggi.